Amici e amiche della Voce del Diavolo e del canale YouTube Milan Elo, ben ritrovati in questa settimana che sicuramente non è una settimana di grande, grande allegria per il Milan, soprattutto per i tifosi del Milan. Prima di tutto la partita con la Juventus è stata una partita triste, dire triste. Il Milan non ha giocato neanche male, il Milan ha cercato di giocare contro una squadra che Allegri ha fatto giocare tutta dietro, con i pullman, molto corta, molto anche fallosa. Il Milan ha cercato di giocare, non si può dire niente, l'impegno dei ragazzi è stato alto, molto alto, però occasioni non se ne sono create, la Juventus non ha fatto neanche un tiro in porta, questo è un merito per la nostra difesa, ma anche noi in avanti non abbiamo fatto granché. Quindi direi di archiviare velocemente quella partita, che potrebbe essere una partita molto importante, perché mettere a 10 punti la Juventus, 10 punti di distacco la Juventus, sarebbe stato molto, molto importante. Invece la Juventus adesso rischia di rientrare perché ha fatto un acquisto determinante, un acquisto intelligente, un acquisto costoso, ovviamente però avrà delle uscite, quindi recupererà dei soldi. In ogni caso si è acquisito un centravanti, la Juventus ha acquisito un centravanti vero, un centravanti di giovane età, forte, con la voglia di far gol, con la fame di vincere, tutto quello che serve a una squadra vera. Noi appunto abbiamo visto molto bene l'altro giorno come l'assenza di un centravanti pregiudica tutto il resto, perché ripeto io non posso dire nulla sui giocatori, c'è stato per esempio un grande Tonali, che sta venendo fuori veramente bene, Calabria rientro, ha giocato bene, lo stesso Messias qualcosa ha fatto, Diaz ha fatto, Leao finché ha avuto birra è stato come al solito devastante, pur se non segna. Insomma, una squadra vera, un bel gruppo di ragazzi a cui manca però, probabilmente manca un leader, anche se Tonali sta studiando per diventare leader, ma soprattutto manca un centravanti, abbiamo visto, appena ho sentito che avrebbe giocato Ibrahimovic dall'inizio ho detto che facciamo, che facciamo con Ibrahimovic, ce la farà, ce la farà a giocare 90 minuti, già sapevo che non avrebbe potuto farcela, impossibile, infatti è partito, era già immobile, giocava 15 metri dietro l'area e dopo 20 minuti ha abbandonato, non è certo colpa di Ibrahimovic se ha dei problemi fisici e soprattutto se ha 40 anni, è colpa di chi ha deciso di non avere un centravanti e questo è il punto, e questo è il rammarico, abbiamo fatto passare un'altra sessione di mercato senza andare a risolvere i nostri veri problemi, che sono quelli che ci sono da quest'estate, da quando si acquistava Pellegri, da quando si acquistava Giroud, da quando si acquistava Florenzi, da quando si acquistava Bakkayoko, non abbiamo migliorato la squadra, è vero che abbiamo inserito Tonali e Tomori, molto forti, però erano già presenti nella squadra l'anno scorso, noi non abbiamo minimamente migliorato la squadra e soprattutto ci manca il centravanti, per non dire ci manca anche il 10, perché Diaz, non è possibile pensare che Diaz sia il nostro punto di riferimento per tutto un intero campionato e per la Champions, sarebbe servito, come ci avevano detto, un'alternativa a Cianoglu, che non è mai arrivata, perché Messias non è l'alternativa. Allora, cos'è che voglio dire? Io non ce l'ho con Maldini, non ce l'ho con Massara, io ce l'ho con Elliot, che non vuole fare investimenti, si dice, eh ma loro guardano al bilancio, stanno cercando di migliorare il bilancio e sono bravi in questo, bravissimi, nulla da dire, però un conto è fare le spese e, se mi permettete, Ibra è una spesa pura, Giroud è una spesa pura, un conto è fare un investimento, tu spendi, Vlaovic, facciamo l'esempio di Vlaovic, era un giocatore da prendere un anno e mezzo fa, due anni fa, si vedeva già che aveva tutto per diventare un giocatore molto forte, lo avresti pagato sui 30 milioni, un investimento tipo Tomori e adesso avresti in casa il centravanti per i prossimi dieci anni. Invece no, siamo andati su due vecchiarelli che due non ne fanno uno, e su Pellegri, che purtroppo, mi spiace per lui, ma non è idoneo a giocare a pallone, almeno sembra non essere idoneo, tant'è vero che già lo fanno tornare a Monaco e poi andrà al Torino. Ecco, questo che io contesto, l'assenza di una strategia per arrivare a vincere, non per essere tra le prime, va bene, siamo molto contenti, siamo molto migliorati su questo, bene, grazie Elliot, ma adesso però, dopo anni di Elliot, voglio un passaggio in più, non voglio avere la garanzia di vincere, vorrei avere la certezza di poter partecipare per vincere, e non ce l'ho, fino a quando ho un quarantenne, come il nostro centravanti titolare, un quarantenne eccezionale, ma rotto, molto rotto, che ha subito diverse operazioni, dove andiamo? E poi ci sono queste regole, queste regole che ha messo Elliot, che io, sì, sono tutte regole che, presa una per uno, sono incommiabili, bravo, però la vita è diversa, la vita nel mondo del lavoro è diversa, quindi anche nello sport è diversa, loro, le regole sono, ma noi non partecipiamo ad Aste per comprare giocatori, infatti volevano prendere Botman, doveva arrivare Botman al posto di Chiesa, al posto di Chiesa, e niente, siccome si è inserito il Newcastle, che ha fatto un'offerta, poi non è stata accettata, in Milano è stato in grado di rilanciare l'offerta, e quindi in Milano non partecipa ad Aste, non è arrivato Botman dal Lille. Vabbè, non si partecipa ad Aste. Non si danno commissioni agli agenti, bello, giusto, perché gli agenti devono prendere commissioni così alte, ci sono dei parametri, ci dovrebbero essere delle regole, per rispettare i parametri, ma queste regole oggi non ci sono, quindi bisogna adeguarci, bisogna cercare di trovare le migliori soluzioni, bisogna cercare di avere i migliori rapporti, non di andare in conflitto, quello va fatto. Invece Milano dice, no, noi non partecipiamo al discorso commissioni, quindi niente, un'altra fetta di mercato, quindi che ci portiamo via. Poi ci sarebbero i parametri zero, parametri zero di giocatori che discutono con le società di appartenenza, ma poi decidono di non rinnovare, tipo il nostro che sì, per dire. Ecco, ce ne sarebbe uno in questo momento da prendere, molto, molto forte, ma il Milan dice, no, noi i giocatori che fanno quell'atteggiamento non ci piacciono. Giusto, giustissimo, però un'altra fetta di mercato che viene tirata fuori. E poi, più di 30 milioni non si vogliono spendere per un giocatore, più di 4 milioni non si vogliono dare l'ingaggio. Adesso, ora io dico, ripeto, prese una per uno, queste sono tutte cose giuste. Non si può discutere. Nell'insieme, praticamente tu hai a disposizione il 10% delle potenzialità rispetto agli altri, rispetto ai tuoi competitor. Allora, se tu vuoi competere, devi scendere in campo e trovare migliori soluzioni. Se tu invece vuoi venire qua e dettare le tue regole, dettare le tue regole, qui non siamo in ambito finanziario puro, non siamo alla borsa di New York, vuoi dettare le tue regole nel mondo del calcio italiano e europeo, non è possibile, ti devi adeguare, devi cercare di migliorare, devi cercare di fare un lavoro giorno dopo giorno, ma non puoi pensare a venire qui e dettare le tue regole. In questo modo ti togli le possibilità, soprattutto togli la possibilità al Milan di vincere, e adesso, non solo di vincere, ma adesso bisognerà stare anche attenti, molto attenti, a non uscire dal discorso Champions, perché se dovessimo uscire dal discorso Champions, i soldi della Champions penso che verranno investiti in un centrale e forse in un mediano al posto di Chessy, ma se non dovessimo entrare in Champions, noi giocheremo l'anno prossimo con Pobega al posto di Chessy e con Calulu titolare, che poi Calulu sta facendo bene, però pensare che lui sia il nostro titolare, il nostro centrale difensivo titolare, mi fa stare un po' in apprensione. Comunque, vediamo gli sviluppi, ci sentiamo alla fine del calciomercato, magari Elliot mi smentisce e fa qualche colpo interessante e molto utile per noi. Ciao a tutti!